Si narra che nel 1598 una bambina nelle campagne dell'agro andriese sia caduta in una cisterna e dopo tre giorni sia stata ritrovata sana ed asciutta. La stessa bambina nella storia tramandata nei secoli avrebbe raccontato che una donna avrebbe sorretta sul pelo dell'acqua nei tre giorni aiutandola. In quel pozzo la tradizione uole sia stata poi ritrovata proprio l'effigie di quella che fu denominata la Madonna dell'Alto Mare. Oltre 500 anni di culto per una delle più antiche tradizioni religiose della città di Andria. Un culto che richiama migliaia di persone provenienti dalla città ma anche dai territori limitrofi con busse ed auto. Una processione che si è snodata nella giornata di martedì 6 giugno per circa 12 chilometri tra periferia e centro città. Alla presenza delle autorità religiose, civili e militari ma anche e soprattutto con circa 10.000 fedeli al seguito. Un culto semplice ma estremamente colorato e sentito con strade vestite a festa ed un percorso che muta ogni anno per raggiungere il più alto numero di fedeli possibile. Partenza ed arrivo dalla chiesa della Madonna dell'Alto Mare sorta proprio su quella cisterna di cui narra la tradizione.